Sabato 5 marzo 2016, seconda edizione della Pora Senza Frontiere. Richiamiamo come l'anno scorso la rievocazione dei storici Giochi Senza Frontiere che oramai se ne parla in modo esponenziale, le abbiamo visto sui social network, in televisione e quindi noi ci siamo sentiti ancora più forti di ripresentare questa manifestazione locale dai profumi un po' invernali, tant'è che siamo sulle piste da sci del Monte Pora di fronte alla Baita Termen. Quest'anno la Baita Termen ci ospita, quindi nello spiazzo di fronte a questo rifugio organizzeremo questa edizione con dei giochi ancora più colorati. Abbiamo quest'anno dei gonfiabili, abbiamo... ma non voglio svelarvi nulla, preferisco che veniate e vediate come abbiamo deciso di presentare e ampliare questa edizione nostrana dei Giochi Senza Frontiere. Ci sono 15 squadre come l'anno scorso, con tre componenti ciascuna, che rappresenteranno i team nazionali. Quest'anno abbiamo una novità, se le nazioni si presenteranno con i colori della propria nazione potrebbero anche aspirare a vincere il premio Team Miglior Nazione, quindi abbiamo un premio speciale. L'idea, come l'anno scorso, per il CAI di Clusone insieme all'Avis e il gruppo No Gravity e quest'anno lo sponsor tecnico Mellos, è quello di dare un significativo accento all'attenzione, di dare maggiore attenzione a quelle che sono le problematiche invernali, Arva, Pala e Sonda. Non dimentichiamoci mai di portarle quando si va in montagna. Quindi tutti sono capaci e dicono sì, lo so, non preoccuparti, lo so usare, l'accendo, vedo. Però poi in verità, quando poi si è di fronte alla problematica, non è così facile ricordarsi quelle che sono tutte le attività da svolgere. Quindi noi iniziamo a dire mettiamola all'interno di un gioco e vediamo quanto può essere difficile trovare anche solo un Arva sotterrato nella neve. e perché no, magari decidere di invogliare i giovani a avvicinarsi al CAI e avvicinarsi a questi elementi che possono aiutarli anche durante le loro gite invernali. Alla fine della manifestazione diciamo più goliardica ci sarà alle 17 il Party Senza Frontiere. Come l'anno scorso, sempre nella Baite Terme, ci sarà la possibilità di divertirsi, bere insieme uno sprizzo, una birra o quello che si vuole e festeggiare quella che è stata la festa, il pomeriggio di festa. Ricordiamo gli orari. Alle 13.45 il ritrovo per le nazioni di fronte allo spiagno della Baite Terme. Alle 14.10 verrà fischiato, se si può dire così, l'inizio dei giochi dove ci sarà la presentazione delle prove da superare. 14.30 al Via, pronti per questa seconda edizione dei Pora Senza Frontiere. Purtroppo, tasto dolente, il meteo. So che tutti lo state guardando, lo state tenendo osservato. Se noi abbiamo domani sera l'ultima prova, l'ultimo incontro, ovvero giovedì sera. Pertanto, venerdì mattina, tutti i team nazionali verranno avvertiti nel caso in cui dovessimo rinviare la prova al sabato successivo, il 12. Così manderemo poi anche gli avvisi sui social network. Tenetevi informati tramite le nostre pagine Facebook, Pora Senza Frontiere o appunto tramite mail. Pora Senza Frontiere